Tutti sappiamo cosa sono le impronte digitali, ma come si rilevano e come si archiviano? Le impronte digitali vengono acquisite ai soggetti in sede di fotosegnalamento da parte delle forze di polizia. Una volta acquisite, le impronte vengono immediatamente inviate al sistema AFIS, che è l'acronimo di Automated Fingerprint Identification System del Servizio Polizia Scientifica. Oggi la banca dati contiene 13 milioni di cartellini fotosegnaletici, oltre un milione di schede palmari e circa 73 mila frammenti di impronta utili rilevati sulla scena del crimine. Frammenti utili vuol dire frammenti di impronta che contengono almeno 16 punti di identità, le famose minuzzi. Quindi ogni volta che una squadra di polizia scientifica interviene in sopralluogo e vengono evidenziati dei frammenti di impronta, questi vengono immediatamente inseriti e ricercati nella banca dati nell'archivio dei soggetti già fotosegnalati. La nostra banca dati è oggi interconnessa con il sistema Eurodac dell'Unione Europea per l'identificazione dei richiedenti asilo e di tutti gli immigrati irregolari che entrano nel nostro paese e in futuro sarà connessa con le altre 27 banche dati degli altri paesi dell'Unione Europea e con quelle degli Stati Uniti d'America. Ma le impronte digitali, quando si formano e fino a quando sono rilevabili? Le impronte digitali si formano la dodicesima settimana di vita entraterina e durano ben oltre la morte del soggetto a seconda dello stato di conservazione del cadavere. Per esempio nel 2012 la polizia scientifica è riuscita a identificare il cadavere di Enrico De Pedis della banda della Magliana dopo 22 anni dalla morte grazie alle impronte già presenti in banca dati. Sono soltanto le impronte digitali a caratterizzare in maniera inequivocabile una persona? Allora innanzitutto diciamo che le impronte non sono solo quelle digitali perché le persone possono essere identificate anche grazie alle impronte palmari e alle impronte plantari. La differenza è che nel caso di impronte plantari, ossia le impronte lasciate dalla pianta del piede, non abbiamo una banca dati e quindi i confronti possono essere fatti esclusivamente in modalità 1 a 1. Accanto alle impronte abbiamo anche altre metodologie identificative come ad esempio il DNA e nel caso di identificazione dei cadaveri anche le impronte dentali. Quali altri elementi entrano a far parte di questa banca dati? Allora all'atto del fotosignalamento nel cartellino fotosignaletico vengono acquisite anche altre informazioni oltre alle impronte. Viene acquisita la fotografia del soggetto, vengono acquisiti i dati enagrafici e i dati descrittivi del soggetto oltre all'altezza. Ebbene queste informazioni sono fondamentali all'investigatore ed è per questo che il Servizio Polizia Scientifica nel 2009 ha introdotto un nuovo sistema informatico che consente proprio agli uffici investigativi delle forze di polizia di consultare e ricercare soggetti nell'archivio del sistema AFIS. Per concludere, oggi è affidato tutto alle nuove tecnologie o sono ancora importanti l'occhio e l'esperienza degli esperti? L'occhio e l'esperienza degli esperti che nella polizia scientifica si chiamano dattiloscopisti sono assolutamente fondamentali perché le nuove tecnologie consentono una velocizzazione delle ricerche in banche dati a fronte di questo enorme numero di cartellini fotosegnaletici, consentono l'invio diretto dal luogo di fotosegnalamento alla banca dati delle impronte senza ritardo. Ma certamente è l'esperto attiloscopista che, confrontando le impronte uno a uno proposte dal sistema, certifica l'avvenuta identificazione dei soggetti.